Una pagina Facebook ed un volantino dal titolo Saione riprendiamoci Campo di Marte. Così un gruppo di arettini ha deciso di invitare residenti, commercianti e chiunque abbia voglia di partecipare ad un incontro che è in calendario per domenica 20 agosto ad Arezzo dalle 17 alle 20. Siamo qui in piazza di Saione, stiamo appendendo gli ultimi manifesti, risolvendo gli ultimi volantini per un evento che poi è una manifestazione spontanea che si terrà presso il Campo di Marte che è stato completamente ripulito da tutto ciò che era lo sporco, più che altro le siringhe e straordinariamente anche domani mattina verranno a fare un'ulteriore pulizia. Quindi il luogo più pulito e più sicuro domani dalle ore 17 alle 22 sarà Campo di Marte. I cittadini sono invitati a partecipare, fra l'altro nell'ultimo minuto faremo un omaggio alle vittime del terrorista, non portate però torce o faccole perché purtroppo la zona lì è molto secca e non vogliamo creare problemi. Luogo quindi pulito e sicuro domani dalle 17 alle 22 a Campo di Marte.